Ecco una spiegazione per capire come fare. Entra prima di tutto nel sito usando le tue credenziali. Come fare? Beh, le credenziali ce le hai, vai su 9parrocchie.it wlinietta admin e così potrai entrare perché avrai un quadrato dove potrai mettere dentro gli elementi che ti servono, cioè il nome che ti è stato dato e la password. Clicca ricordami così sarà più facile rientrare. Ecco questa è la schermata che ti si offrirà. Questa schermata è detta bacheca. In alto, facci caso, c'è un più con un nuovo. Questo è l'unico tasto di cui ti devi occupare. Tutto il resto se non lo tocchi è meglio perché poi c'è bisogno di una spiegazione che adesso non facciamo. Clicca sul tasto nuovo, appare una finestra, un menu a discesa da qui per ora. Clicca su nuovo articolo e infatti quello che dobbiamo fare sono nuovi articoli. Bene, conosciamo la finestra che ci servirà perché appena tu clicchi su nuovo articolo ti appare una finestra di questo tipo. Questa è la schermata subito che ti si presenta nella bacheca. La impariamo a conoscere per fare il nuovo articolo. Beh, a sinistra hai una colonna con tutte le informazioni. Adesso per ora le lasci stare. Questa è l'area in cui scriverai il tuo articolo. Poi a fianco ci sono alcune colonne che ci interesseranno molto. Il tasto pubblica prima di tutti e altre che lasciamo stare come la colonna formato. Scendendo avrai la colonna categorie, il quadrato categorie, che ti tornerà utile per scegliere dove far apparire l'articolo, ma lo diciamo subito dopo. E infine quello che ti potrà servire è questo quadratino dove c'è scritto immagine in evidenza. Ma dai, ora che abbiamo visto più o meno come sono le cose, creiamo il nostro articolo. Vedrai che c'è spesso la scritta Renazzo, ma non perché è la cosa più importante del mondo, ma perché è da un esempio bisogna partire. Bene, abbiamo cliccato il nuovo articolo, ecco questa è la pagina che ci presenta con il nuovo articolo. E prima di tutto cominciamo con lo scrivere il titolo, un titolo di prova qualunque andrà benissimo, mentre nello spazio sotto lì cominciamo a scrivere il nostro articolo. Io ad esempio scriverò articolo di prova che mi sto inventando di sana pianta. Ebbene, una volta che ho scritto questa cosa vedrete che sarà facilissimo andare avanti, ma immaginiamo che invece di scrivono in quel momento io me lo sono scritto a parte su un testo Word ad esempio nel mio computer. Basterà che io incolli il testo Word del mio computer e poi nel quadrato hai fatto caso che in alto a destra c'è una scritta testo. Cliccaci sopra. Bene, è simile alla finestra di prima se ci fai caso. Ci sono delle indicazioni in più che a te non importano. Lì dentro incolli, non in quello dove stavi scrivendo. In questo il perché è molto semplice, perché tutto quello che metti qua dentro te lo formatta secondo quello che il computer dice essere la cosa migliore per lui. Quindi dopo tornerai al tuo posto, vai su il tasto visuale, lì troverai il testo che hai inserito senza indicazioni. Faccio un esempio. Tu l'hai scritto in rosso? Lì in rosso non apparirà. L'hai scritto tutto in grossetto? Beh, lì non apparirà. Una volta che tu hai il tuo articolo scritto in quel momento o copiato, puoi usare questa colonna per fare alcuni cambiamenti. Puoi metterlo in grassetto una volta che hai selezionato il testo, puoi metterlo in corsivo una volta che hai selezionato il testo, oppure dividerlo per punti o per punti numerati. Puoi anche inserire le virgolette per una citazione, cambia il formato, quindi usalo proprio quando sarai molto sicuro all'inizio no. Questi punti invece ti serviranno per scegliere come allineare il testo, se tutto a sinistra, se invece al centro, oppure tutto a destra. Questa catenina invece che trovi a fianco ti tornerà utile per mettere un link legato al testo che stai inserendo. Lo vediamo tra pochissimo. Intanto tutte queste diciture al momento, facciamo così, lasciale perdere, non ti devono preoccupare. Torniamo a noi. Decidiamo che a fianco al nostro articolo di prova vogliamo mettere dentro l'articolo un'immagine. Basterà cliccare su aggiungi media. Facendolo, cliccando questo tasto, avremo la presentazione di questa finestra dove dentro ci sono già delle immagini dove spicca la faccia di padre Francis, la mia e quella di Thomas, già scelte, già inserite. Quelle inserite andranno a formare la libreria media. Decidiamo a un certo punto di usare una di queste immagini e quindi questi due tasti carica file e libreria media ci aiuteranno. Noi per ora stiamo usando il tasto libreria media. Qui troviamo tutte le nostre immagini. Come detto ne scegliamo una. Cliccandoci sopra aprirà un rettangolo blu e una spunta e in basso a destra mettiamo inserisci nell'articolo e così facendo ecco la nostra immagine che viene inserita dentro il nostro articolo. Apparirà anche quella colonnina sotto con diverse indicazioni che ci fanno dire mettiamo l'immagine tutta a sinistra e il testo sopra e sotto e il testo anche a destra oppure la mettiamo l'immagine tutta a sinistra e il testo sopra e sotto oppure l'immagine al centro e con il testo sopra e sotto. Insomma è facile da intuire. Se invece vado a cliccare la matitina significa che posso lavorare sull'immagine inserita. Mi fa fare piccole cose spostarle, ingrandirla, diminuirla ma lavorando solo dentro l'immagine. Anche qui usatelo più avanti per ora e se volete cancellare tutto cliccate sulla croce. Se poi invece volete cambiare la grandezza dell'immagine più che la matitina potete cliccare su quei quadratini che trovate a destra a sinistra, ci cliccate sopra con il mouse, lo tenete premuto e poi lo spostate. Vedrete che l'immagine si ingrandisce proporzionalmente o si diminuisce se la volete fare più piccola. Torniamo un attimo al tasto di prima. Noi abbiamo usato libreria media ma se volessimo usare carica file perché l'immagine che vogliamo mettere dentro non l'abbiamo dentro ma l'abbiamo sul computer, allora clicca su carica file, ti si apre una finestra di questo tipo, c'è il tasto seleziona file, tu lo selezionerai e andrai a prendere l'immagine del tuo computer che hai sul desktop. La clicchi la scegli e immediatamente ti apparirà dentro la libreria media e quindi basterà di nuovo selezionarlo come prima e inserirla. Torniamo un attimo al nostro articolo. Scegliamo di aggiungere oltre all'immagine che abbiamo messo anche, che ne so, una locandina di quell'evento che stiamo spiegando scaricabile in pdf. Allora scriveremo ad esempio scarica la locandina. Dopo aver fatto questo, visto che dobbiamo fare in modo che la gente possa scaricare un file in pdf, basterà selezionare il testo e poi cliccare su quella catenina che avevamo visto prima. Appena la clicchiamo il nostro testo diventa blu e sottolineato. Si apre un rettangolo dove io posso mettere dentro un urlo, un link di riferimento. Se sto citando un sito e lo voglio rimandare a vedere, basterà mettere qui le coordinate del sito www.il sito che voglio mettere. Se invece voglio mettere dentro un testo, un pdf che io devo caricare dentro, allora devo procedere inserendo l'url del mio testo. Ok, ma come si fa a mettere dentro un url? Allora, semplice, prima di tutto per comodità, per ora, non useremo il tasto aggiungi media. Dirò piuttosto un consiglio furbo, ovvero a fianco alla pagina che tu hai già aperto, apri un'altra sempre con lo stesso sito. Torna dove c'era il più nuovo e stavolta scegli media. Di a fianco apparirà una finestra di questo tipo, basterà cliccare seleziona file e di nuovo ti aprirà il computer, tu sceglierai il tuo file in pdf e lui te lo carica. Una volta caricato lo vedrai lì in basso, ma poi basterà cliccare il tasto copia urlo e tornare alla tua pagina di prima dove potrai inserirlo. Una volta cliccato poi lo potrai salvare cliccando quel tasto blu. Bene, se vuoi già lavorare, se prima di proseguire con il tuo lavoro vuoi vedere a che punto sta arrivando, cioè che effetto sta facendo il tuo articolo che stai costruendo, vai sul tasto in alto a destra anteprima e lo vedrai più o meno apparirà così. Ricordati che nel tuo computer adesso hai una finestra aperta che ti fa vedere l'anteprima e una finestra su cui stai lavorando. In teoria ne avrai una terza aperta perché hai voluto caricare i media secondo il consiglio che ti avevo dato. Ma creato l'articolo noi dobbiamo scegliere anche dove collocarlo. Non basta scriverlo dove vogliamo che appaia nel nostro sito. Andiamo a dare un occhio al sito. Nel nostro sito ogni parrocchia ha nella sua pagina, tipo parrocchia di Renazzo, una parte superiore intitolata in primo piano. Vedete ad esempio l'Assemblea Caritas appare con un'immagine, uno scritto, ma se io vado sotto ho una parte centrale che si chiama news e quotidianità. Vedete che è circondata da un rettangolo grigio già impostato, non dovremmo fare niente. La parte in fondo ci fa vedere storia e storie dove ci sono articoli che possiamo inserire anche in questa parte, proprio la terza parte della nostra pagina. A dire il vero con le nostre credenziali noi potremo aggiungere degli articoli nella pagina del Catechismo che sarà a sua volta divisa in novità e in cammino, articoli un po' più piccoli o semplicemente verrà anche definito box inferiore e in alcune parrocchie c'è anche la pagina oratorio. Anche lì basterà inserire lì il nostro articolo. Bene, dove vogliamo mettere l'articolo? L'abbiamo capito, ora dobbiamo capire come farlo. Bene, torniamo al nostro articolo. Siamo a questa pagina, facciamo scivolare un po' in fondo la pagina e arriviamo a quel rettangolo categorie che ci torna piuttosto utile. Vedete, qui sono eleccate tutte le categorie in cui è possibile far apparire il nostro articolo. Se clicco Catechismo di Renazzo mi arriverà collocato lì, alla pagina Catechismo di Renazzo, quella parte iniziale. Se invece clicco Catechismo Renazzo box inferiore mi arriverà nella parte più sotto della pagina Catechismo, quella che abbiamo visto prima. E così facendo, se clicco Oratorio mi apparirà sulla pagina Oratorio. Se invece clicco in primo piano mi andrà nella Homepage della mia parrocchia, nella parte più alta, quella che avevamo visto all'inizio. Se invece faccio Quotidianità apparirà nella parte che abbiamo visto listata di grigio. E infine Storie e storie mi arriverà nella parte più bassa della mia Homepage. Quindi, fatto l'articolo, io scelgo dove farlo apparire, selezionando una di queste parti. Facci caso però, alcuni articoli appaiono non solo con l'immagine dentro, ma nella Homepage con un'immagine a fianco, come in questo caso. E come si fa? Oh, semplice. Torniamo alla pagina del nostro articolo, scivoliamo ancora più sotto, lasciamo quindi alle spalle il rettangolo Categorie e troviamo il rettangolo imposta immagine. Basterà cliccarci sopra e si aprirà il rettangolo per inserire le immagini, esattamente come l'avevamo visto prima. Ma mentre prima era inserisci articolo, immagine nell'articolo, qui è immagine in evidenza. Si procede allo stesso identico modo, carica file o libreria file. Ne scegli uno, viene selezionato. Una volta selezionato, basterà che tu scriva in poste l'immagine in evidenza. Lui te la farà già vedere anche in questo rettangolino e poi, quando sarà il momento di pubblicarlo, te lo metterà al posto giusto. Per evitare che gli articoli ogni tanto siano troppo pesanti, il suggerimento che ti do è, scivola la pagina ancora più in basso, troverai questo sulla sinistra, Code Post Layout, clicca su Yes, su Add Feature Image, perché farai in modo che quando vai a metterla dentro, l'immagine in evidenza non appaia solo sull'empage e non dentro l'articolo, perché altrimenti dentro l'articolo hai messo l'immagine prima, poi c'è un'immagine anche adesso, troppo pesante. Ora è tutto pronto, quindi sali in alto, affianca il tuo articolo, troverai due strade molto belle o pubblica e l'articolo apparirà dove tu lo hai collocato o sposta nel testino e quindi butti via tutto. Facile, no?